Siamo seguendo l'assessore Bellotti e l'assessore Ballestra che sono appena andati via dalla casa di Sappa in quanto all'ultimo minuto il gruppo degli Uniti ha deciso di firmare il documento redatto dal presidente e dunque stanno cercando Sappa in tutta Imperia però il presidente non si trova il tempo passa e se non si trova sino questa sera alle 19 la provincia sarà commissariata